Ciao, hello, io sono Kevin Cortella, I am Kevin Cortella, e tu stai ascoltando And you are listening to Future Presente, il podcast in cui dieci minuti alla volta The podcast where ten minutes at a time scoprirai come la sua prima puntata potrebbe anche essere l'ultima You'll understand how its first episode could also be the last one Ci siamo anche oggi Even today, I am alive and I am talking to the world And it feels great not to know who I am talking to, but talking to someone La scorsa puntata, lo devo dire, è stata molto didascalica E piuttosto pesante, posso immaginare The previous episode was really really boring Because I only talked about serious stuff So for this episode we will go straight into the main topic How can you collaborate for the podcast, with the podcast? Come potete collaborare? Come possiamo costruire questo podcast assieme? Partendo dall'improvvisazione Come sapete il podcast è improvvisato Io ho qui davanti a me una lista degli argomenti Ma non so come ne parlerò As you know, the podcast is also improvised And I've got in front of me a list of the topics I want to talk about But I don't know how I will talk about them Which words I will be using Perciò come potete complicarmi la vita Potete scrivermi tre parole Che non siano sole, cuore e amore Tre parole a caso come sottomarino, lampione, accendino E io dovrò essere capace di inserire queste parole Con senso compiuto all'interno del mio discorso Per spiegarvi l'argomento What you can do to make my life more difficult You can submit with a form Three words that you can pick Like, for instance, sun, rainbow, snake And I will have to decide And I will have to use these three words In a meaningful way in the next episode To express, to put across the concept The topic I want to talk about Ci dovessero essere tante proposte Allora sarete voi All'interno del gruppo Telegram A scegliere quali parole utilizzare Quali parole dovrò utilizzare Should the proposal be too many Then you will be the one picking them In the channel on Telegram Ma non solo Avrete notato quanto povero di musica Questo podcast sia C'è solo la mia voce Come potete ravvivare l'ambiente Siete musicisti Avete qualche dote particolare Vi piace comporre O semplicemente vi piace creare Beh, potete inviarmi Tramite un altro forum Una proposta Ascoltate l'intro e dite Secondo me questo potrebbe andare bene A patto che sia qualcosa Fatto da voi Should you be interested in music Should you be a creative person And say I would love having my music As a background for the intro Of Future Presenter The podcast number one in the world And you can do that By submitting your music recording In the next form I will explain you in a bit Where to find everything Quindi, ricordate Se volete collaborare Lo fate perché Vi sentite motivati a farlo Perché vi piace farlo E non perché vi aspettate qualcosa in cambio Deve essere qualcosa di sincero Io ti ascolto Kevin Mi piace sentire il tuo entusiasmo E io voglio partecipare con te In questo progetto Anche con un po' di musica Just remember 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 That if you want to participate To collaborate It needs to be A very spontaneous gesture You need to do that Because you feel moved To do so Motivated Because my voice My enthusiasm Makes you An enthusiastic person Ma c'è poi Un altro modo Molto interessante Che è quello Della canzoncina finale There will also be From the next episode A final song Which you can sing With me La canzone Nel prossimo episodio The song will go A bit like this Come dicevo Visto che non ha completato La frase in italiano La canzone Farà Così If before I was alone Listening to Future presente Adesso siamo in due Ad ascoltare Future presente La prossima puntata Se voi mi invierete La vostra nota vocale Mentre cantate La seconda parte Di questa canzoncina Io andrò ad aggiungere La vostra voce In modo che effettivamente Siano due persone A cantarla E quindi due persone Ad ascoltare questo podcast E di episodio in episodio Ovviamente Andranno aumentando What I'm asking Is you sing The song with me So in the next episode If you have submitted To me Your voice recording Of the second part Of the little song And you will find that I'll tell you in a second Where Then I will use your voice Along with my voice So it really 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 Will sound As though We are More people Than me Listening to Future presente And again If there are Musicians Out there Who would like To create A little Music For this Final song Please Do so Chiaramente Se questi musicisti Là fuori Si sentono Motivati A sufficienza Possono anche Comporre Una piccola Canzone Per fare Da sottofondo A queste Parole Finali A questo Slogan Finale Un ultimo Modo Per contribuire Naturalmente Sono le recensioni Reviews That is The final way You can Collaborate To the podcast E perché Dovreste Lasciare Una recensione Per future Presente Why Should you Leave A review For future Presente Vi Presento Scusate Il brutto Gioco di parole Let me Introduce Alvin Buongiorno Alvin Hello Alvin Ciao Kevin Hello To everyone Here How are you Kevin Come stai Ma in realtà Va tutto Benone Sono qua che Sudo come Un dannato Sotto al tetto In mansarda Ma sono Molto felice Very Very Well Indeed Alvin Just Tell me What Is your Purpose In the Podcast Qual è il tuo Scopo Alvin In questo Podcast Ma Semplicemente Io andrò A leggere Tutte quante Le recensioni Che verranno Lasciate Dicendo Nome Cognome Le parole E mi sembra Un modo Abbastanza Creativo Abbastanza Intelligente Interessante Per rendere La recensione Più divertente Not really Much Than Not really Much more Than Just reading Reviews You know Kevin Just making Reading Reviews Funnier Than it Usually Is All right Time is Almost out I'll let you End the episode Kevin Guarda l'orologio È quasi finito Il tempo Saluta A tutti Di dove Possono Trovare I link Le cose Importanti Hai ragione Grazie Alvin You are Totally Right Thank you Alvin The time Is out For this Episode As well If you Want to Understand How to Concretely Collaborate Just look At the link In the description Box Se volete trovare Tutte le informazioni Per capire Come collaborare Guardate Nel link Nella descrizione E ricordate And Remember Bachi 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 Bachi